Non è possibile pensare di risolvere i problemi occupazionali riempiendo il territorio di attività commerciali. Questa è la netta presa di posizione del sindaco di Albino, Giacomo Rizzi, di fronte al piano integrato di intervento Centro Negger, l'area commerciale residenziale quasi completata della società Albino I di Domenico Calzaferri, che dista soli 200 metri dalla zona in cui il cotonificio Negger si appresta all'uso commerciale di 5.000 metri quadrati di terreno. In considerazione dei benefici occupazionali del progetto, Rizzi ha dovuto recedere dal suo intento di mantenerle l'antica destinazione industriale, ma ha posto una condizione, che nella nuova struttura si vendono solo prodotti tessili e non alimentari o d'altro tipo. Della riconversione Negger si è discusso nella giunta comunale di lunedì scorso, quando insieme a Giuliano Capetti, assessore provinciale al lavoro, si è deciso che il comune di Albino e la provincia di Bergamo, con apposita delibera, chiederanno alla Regione Lombardia la costituzione di un comitato politico di indirizzo e di controllo e di una commissione tecnica. E se per Nembro si avanzano riserve sulla viabilità e sull'esclusione dai negozi di vicinato, la struttura commerciale dovrà vendere solo prodotti alimentari, per Albino il sindaco Rizzi pone due altre condizioni, che in caso di cambio di tipologia d'uso l'area torni ad essere industriale e che l'operatore privato si impegna ad assumere un numero maggiore di persone in esubero dal cotonificio rispetto alle 150 promesse, dal momento che alla firma del protocollo d'intesa non era previsto che una parte di fabbrica diventasse commerciale e questo ha comportato per il comune l'adozione di una variante al piano di governo del territorio.